ragazzi è smesso di piovere io al fietto sono abbastanza stanchi però lo so qui continuano a cascare castagne però ragazzi purtroppo io non so chi è stato qui a prendere tutti questi ombrelli ma un ombrello ecco e che si deve fare ragazzi si sombrella che si fa ragazzi che vi devo dire